Ciao Ciao Matteo, cosa ci fai qui? Avrei un favore da chiederti Certo Mentira La polizia presto sarà qui Ti chiederanno a che ora ho lasciato il ristorante l'altra notte Era l'una, esatta Lo sappiamo entrambi Dovresti dire loro che erano le tre Perché? Non ho scelta Ma... Di che cosa ti stanno accusando? Omicidio Dicono che ho ucciso Thomas e le due ragazze con cui ho cenato l'altra sera Non sono stato io Sono innocente Io non posso Mi dispiace, non posso aiutarti Non posso fare una cosa del genere Non fa niente Lo sapevo che l'avresti detto Sei... sei troppo onesta per mentire Ci ho provato Almeno ci ho provato Senti... Se solo sospetti che io possa essere innocente Fidati di me Ti prego Io l'ho fatto con te Io l'ho fatto con te Io non posso Salve! C'è nessuno? C'è nessuno? Scusa, non posso